Ragazzi, statemi a sentire. La missione di Peter era un trucco. L'abbiamo semplicemente allontanato per organizzargli la festa di compleanno. Pensavo che i compleanni fossero vietati. E inoltre, Peter dice che sono stupidi. Lo dice perché non ne ha mai festeggiato uno, altrimenti saprebbe che sono belli. Faremo la festa di compleanno per prima che ci siamo avviste sull'isola! Tu prepari la pastella, mi raccomando che sia abbondante, e tu invece ti occupi del cioccolato e della frutta. Tu fai la panna montata, io intanto scaldo il forno. Voglio dei nastri colorati da lì a lì. Qui mettiamo la tovaglia e tutti intorno lanterne di carta. Ah, e i fiori! Ci serve anche un ramo di quercia per costruire un arco. Ci penso io. E per le fionde la linfa dell'albero della gomma? So dove trovarla. Ehi, che cosa fanno? E lì mettiamo il tavolo con i dolci. Si può sapere cosa stai combinando? Ecco, il fatto è che stiamo organi... Eh, stiamo mettendo in ordine. C'è una tale confusione in questo posto. E so che detesti questi lavori, così lo facciamo noi. Perché non vado ad aiutare Peter? È partito in missione per il Monte Python. Non dobbiamo dirlo a Trilly. Lei non sa mantenere i segreti, d'accordo? La gente non sa non s'acrisa. È partito in un momento... Allora da, io a te la, io a te la. E adesso... Ick medio...